Un 2019 che se nel complesso a livello locale non ha destato particolari allarmi rispetto a precedenti periodi come il 2007 ha però riservato un tragico finale a livello nazionale con l'esplosione della cascina di Alessandria del 5 novembre in cui perirono i vigili Matteo Gestaldo, Marco Tricchess e il reggino Nino Candido che ha rischiato una replica con l'esplosione della macelleria di Sant'Antonio a Reggio Calabria del 20 novembre. Quei due eventi non a caso sono stati ricordati dal comandante provinciale dei vigili fuoco di Reggio Calabria l'ingegnere Carlo Metelli durante la conferenza stampa di fine anno. Hanno segnato profondamente tutti gli appartenenti al corpo nazionale e a maggior ragione quelli della città di Reggio Calabria. L'azione dei pompieri nel vasto e complicato territorio reggino è stata continua durante tutto l'anno grazie alla capilarità della presenza dei diversi presidi. Tale presenza, ha spiegato l'ingegnere Metelli, sarà rafforzato ulteriormente nel corso del 2020. Stiamo organizzando, dice il comandante provinciale, l'apertura del distaccamento di Morasterace che ci consentirà di avere una copertura nella parte nord della provincia e stiamo lavorando intensamente per avere l'attivazione di altri distaccamenti. A Villa San Giovanni, ad esempio, siamo in una sede provvisoria e per questo si rende necessario costruire una nuova caserma. Se quindi ci sono margini di miglioramento strategico per il corpo, dal punto di vista tecnico e tattico, il comandante è consapevole di poter contare su una dotazione di primo ordine sia come mezzi che ovviamente come uomini. Lo dimostrano gli interventi operativi in zona, che è anche lontano dal territorio di competenza, come quando una squadra è partita da Gioia Tauro per collaborare l'evacuazione dell'isola di Stromboli dopo l'eruzione del 3 luglio scorso. Per quanto riguarda gli interventi operativi ordinari, se la stagione estiva è fortunatamente abbastanza tranquilla grazie alle piogge della tarda primavera, sono stati gli interventi per eventi estremi a mettere alla prova gli uomini del comando di via sbarri superiori. Parliamo di bombe d'acqua, tempeste di vento e altri fenomeni meteorologici imprevisti. Hanno messo a dura prova la preparazione dei pompieri reggini, compreso il nucleo sommozzatori che costituisce un gruppo scelto, punto di riferimento a livello regionale. Inoltre, l'anno si è caratterizzato da due interventi di soccorso tecnico urgente particolari, il recupero dell'escursionista in un torrente nella zona di San Luca nel mese di agosto e il precedente recupero nel mese di febbraio di una mamma con una bambina isolate da una forte nevicata. Il comandante Metelli spiega Oggi il soccorso tecnico urgente è sempre più legato ai meccanismi di protezione civile. Per questo abbiamo ripristinato da qualche settimana la sala crisi del comando provinciale di Reggio Calabria e stiamo lavorando per renderlo sempre più efficace. Inoltre, stiamo effettuando una ristrutturazione della nostra sala operativa per garantire un intervento più rapido ed efficiente.